Innanzitutto grazie Luigi, sono qui a raccontare miracoli, una modestissima esperienza che stiamo conducendo a Modena dove all'attivo in questo momento ci sono quattro Health Equity Audit e da dove cominciamo? Iniziamo da una volontà di osservare quelli che sono gli indirizzi, come ci ha detto prima la dottoressa Amore della regione Emilia Romagna e perciò lavorare sull'equità, equità che diventa cultura diffusa nell'azienda e tutto ciò è stato potuto essere attuato proprio per questo motivo. Nel 2016 abbiamo iniziato a lavorare sia nel contesto regionale che nel contesto locale su quelli che erano appunto i principi dell'equità e dell'evoluzione, abbiamo fatto tanta teoria in questi dieci anni ma negli ultimi anni tutte le aziende hanno iniziato ad attuare nei loro contesti quelli che erano gli strumenti suggeriti. A Modena oltre che l'Eltra Equity Audit abbiamo lavorato molto sul PRP, sull'Equality Impact Assessment nel Dipartimento di Sanità Pubblica ma come tutte le altre aziende in regione. Il processo dell'Eltra Equity Audit è un processo lungo, è un processo faticoso ed è un audit a tutti i livelli dove sia l'impatto quantitativo che quello qualitativo c'è radice lunga. Come processo il primo step di quest'Eltra Equity Audit è definire il gruppo di lavoro e le aree prioritarie ed è uno step importantissimo. definire un gruppo di lavoro per l'Eltra Equity Audit è diciamo iniziare col piede giusto e perché dopo sarà questo gruppo di lavoro che identificherà quelle che sono le aree prioritarie da analizzare e da lì parte tutto. Perché abbiamo scelto questo strumento? Perché fornisce ulteriori, i miei predecessori, i colleghi che hanno parlato prima ce l'hanno detto in vari modi, da ulteriori elementi conoscitivi per quella che è un'utile e una giusta, direi, se parliamo di equità, programmazione sanitaria. Negli anni passati spesso le programmazioni sanitarie venivano fatte a tavolino, dati quantitativi, vediamo il passato e programmiamo il futuro. Ora, insomma, con questi strumenti invece si agisce diversamente. La programmazione sanitaria va a vedere che i pazienti non sono più il paziente diabetico. Il paziente diabetico ha diverse facce, ha il paziente di tipo 1, di tipo 2 e con tutte le loro patologie connesse. Ma il paziente di tipo 1, che è quello che noi abbiamo preso in esame, lo stesso paziente di tipo 1 ha diverse facce. Se noi guardiamo quelli che sono stati gli indirizzi e le variabili di equità che questa regione sta portando avanti ormai da dieci anni, come diceva Luigi, che sono le variabili sociodemografiche, ci rendiamo conto che c'è il paziente giovane, c'è il paziente anziano, c'è il paziente allettato, c'è il paziente che invece ha mobilità senza problemi, c'è il paziente italiano, c'è il paziente straniero. Perciò noi dobbiamo vedere, attraverso questi audit vogliamo fornire servizi in relazione a quelli che sono i reali bisogni di salute di questa popolazione e distribuire anche le risorse in relazione ai reali bisogni di questi differenti gruppi di popolazione. Ma il valore aggiunto di questo strumento è che fornisce alle aziende che lo applicano di identificare e ridurre quei gap evitabili che sono spesso dati dalla nostra stessa programmazione e dalle nostre stesse organizzazioni. Spesso noi abbiamo procedure, direttive e processi che non si muovono come si muove la fluidità della nostra società. Facciamo una procedura che dura dieci anni e in dieci anni il mondo intorno a noi è cambiato e poi ci meravigliamo come mai la gente non va in un servizio, non ne soffruisce o quant'altro. Questo è importante, vi dicevo, il gruppo di lavoro, perché è un gruppo di lavoro multidisciplinare, è un gruppo di lavoro multiprofessionale, è un gruppo di lavoro che è un flusso dinamico. C'è una cabina di regia fissa e poi c'è gente che entra, c'è gente che esce, c'è gente che si interscambia a secondo non solo del percorso che noi vogliamo lavorare, vogliamo studiare e analizzare, ma anche nelle varie fasi dello stesso percorso. In una prima fase ci sono alcuni attori, nella seconda fase se ne aggiungono altri e nella terza fase altri ancora. La cosa importante è fin dall'inizio del nostro percorso di Alta Equity Audit coinvolgere gli stakeholder. Gli stakeholder, noi siamo stati fortunatissimi, abbiamo avuto una partecipazione attiva in tutte le fasi e anche ora nel monitoraggio. Qua parliamo di diabete, tutte le associazioni di pazienti diabetici della provincia di Modena hanno partecipato e ringrazio Rita Livia Stara che non è in questo momento qui con noi, comunque è la presidente della FEDER, della Federazione dell'Associazione Diabetiche Regionali che è sempre stata costantemente in contatto e ha partecipato a tutti i nostri incontri. Perciò un processo dinamico che vede la diabetologia, qui con noi oggi c'è Anna Ciardullo che è appunto a capo dell'unità operativa complessa di diabetologia della nostra azienda, ma hanno partecipato naturalmente tutta la parte dell'epidemiologia, tutta la direzione operativa e le cure primarie, ma anche dentro al gruppo c'erano l'ICT, i servizi informativi e l'ingegneria clinica. Questo per me è stato un passaggio cruciale. Le fonti dati, prima abbiamo ascoltato il professor Costa che ci dice che ha la parte informativa e epidemiologica è il core degli Delta Equity Audit. È verissimo, anche se a questo l'Elta Equity Audit, la parte soltanto quantitativa non sarebbe divenuto quello che poi è diventato per noi. C'è una parte qualitativa, poi i dati quantitativi vanno anche analizzati a secondo di quello che emerge dai dati quantitativi, vedere qualitativamente che cosa ci dicono. Un flusso dati importantissimo, un flusso dati importantissimo che senza un'attentissima analisi a una persona dedicata non si può gestire, esperienza vissuta. Tutto questo flusso dati deve essere poi linkato con quelle che sono le variabili che la nostra regione ha deciso, le variabili sociodemografiche, disabilità, età, genere, stato socio-economico, provenienza e anche dislocazione territoriale. Perché come diceva all'inizio di questa giornata la dottoressa Moro, è vero che fra il mondo e il mondo occidentale ci sono delle differenze, fra l'Europa e l'Italia ce ne sono altre, all'interno del nostro sistema italiano ci sono altre differenze di sistemi e anche all'interno della nostra regione e anche all'interno della nostra provincia. Come dicevo prima, il completamento dell'approccio quantitativo, quindi sono stati integrati i risultati emersi da un approccio qualitativo, ma considerando sia il punto di vista di tutti i professionisti coinvolti in questo percorso, che dei pazienti. Perciò l'informazione diventa conoscenza e l'informazione semplice, la conoscenza, crea delle reti e le reti a questo punto creano cultura. Noi siamo partiti come lo strumento ci impone da tutta la popolazione della provincia di Modena per arrivare alla popolazione diabetica, poi abbiamo estrapolato quella che è la popolazione di diabete di tipo 1, sono piccoli numeri ma sono stati molto importanti e da questo abbiamo estrapolato gli aderenti e non aderenti, perciò abbiamo immediatamente una visione di, quando abbiamo iniziato, di una piccola percentuale, che poi piccola non è, di non aderenti a questo percorso. Da una segmentazione, dalla popolazione alla provincia, siamo andati ad una segmentazione distrettuale per vedere eventuali diseguaglianze di accesso o trattamento nei vari territori. Abbiamo puntato naturalmente i servizi a disposizione nei vari territori, abbiamo visto territorio per territorio quanti erano appunto i non aderenti o gli aderenti. Poi abbiamo visto chi sono i non aderenti, naturalmente abbiamo utilizzato uno degli strumenti che abbiamo utilizzato è l'analisi multivariata della non aderenza che ci ha dato dei livelli di significatività più rilevanti su alcuni target, perciò sui cittadini diabetici tipo uno di Castelfranco e Mirandola, sugli over 65, sugli stranieri ma dei paesi a forte pressione migratoria, sul reddito basso e su alcune sezioni censuarie molte di private. Bene, allora abbiamo iniziato a riunirci, il gruppo si allarga e abbiamo iniziato a vedere effettivamente chi sono queste persone, che cosa potevamo fare noi. Abbiamo visto che c'era un elevato numero di pazienti per i quali non era riportata nella nostra cartella clinica la diagnosi specifica di diabete, questo era un nostro problema, no? Abbiamo iniziato, come vi ho detto prima, c'erano anche dei gap organizzativi che con l'Health Equity Audit emergono e poi possiamo agire. Abbiamo formalizzato e abbiamo valorizzato nuove modalità di gestione del paziente, abbiamo visto che c'erano delle fonti informative per le esenzioni disallineate e questa era soprattutto per i distretti che nel 2012 erano molto vicini al cratere e abbiamo risolto questo problema, delle mancate registrazioni delle esenzioni rilasciate in altre aziende usa, cioè se io per assurdo mi trasferisco da Bologna a Modena, a Bologna c'è l'esenzione e a Modena non mi viene riconosciuto, devo rifare tutto l'iter e questo insomma per un cittadino spesso in età lavorativa perché sono giovani, quelle di diabete uno o addirittura studenti insomma può creare qualche problema ma stiamo già lavorando su questo, perciò da diciamo nell'ultimo periodo abbiamo già avuto a livello organizzativo dei piccoli, abbiamo potuto fare dei piccoli cambiamenti a costo zero che ci vedono che l'andamento della compilazione della cartella My Start, la cartella clinica del diabete sta notevolmente migliorando. Abbiamo visto delle differenze territoriali, i diversi centri ci dicono le persone dall'analisi qualitativa abbiamo visto che diversi centri non presentano lo stesso livello di accessibilità e di qualità del servizio, non tutti i servizi della nostra azienda ad esempio davano gli stessi servizi. Benissimo, allora il gruppo ha allargato sempre con le associazioni di volontariato presenti e ha visto quali erano le critiche maggiori, i suggerimenti, gli orari di accesso non eco nel territorio, una presenza infermieristica poca adeguata in alcuni CAD, un percorso ridondante, abbiamo fatto un grandissimo, scusate ma l'ho congiuntivito, un grandissimo lavoro di customer experience per vedere quella che era l'esperienza del paziente nei diversi distretti e all'unanimità abbiamo visto che questo percorso era molto ridondante specialmente nei passaggi per il tiro farmaci e presidi. Lo psicologo e la dietista presenti in alcune sedi e in altre no. A tutto questo abbiamo già risolto attivando questa presenza di psicologo clinica chiamata in tutti i CAD e la dietista in tutti i CAD. Abbiamo visto che non esistevano strumenti informativi aziendali sulla patologia, sulle terapie, sull'organizzazione del percorso e hanno molto apprezzato i pazienti il fatto di potersi incontrare anche fra di loro, per potersi scambiare anche delle metodiche, dei suggerimenti fra di loro. È venuto fuori che nei nostri percorsi formativi forse la voce del paziente esperto sarebbe stata molto positiva e così è stata. Infatti c'è stato il coinvolgimento del paziente esperto per lavori di gruppo, per le mappe educative e negli incontri che facciamo ciclicamente. Il viaggio del paziente come vi dicevo l'ho ridotta moltissimo perché ci ha impegnato per parecchi mesi perché abbiamo incontrato diversissimi gruppi, si ha una dislocazione abbastanza ampia a Modena. Il viaggio del paziente, il reale viaggio del paziente seguendo quello che era il nostro percorso era suddiviso in otto tappe. Queste otto tappe ci siamo resi conto subito, no? Che erano insomma un po' critico, un po' insomma la gente doveva tornare perché non si davano ad esempio i farmaci e tutti i kit per i tre mesi, no? Ma si davano soltanto per un mese, perciò la gente doveva tornare, riprendere, rifare, poi doveva andare in farmacia, poi doveva andare un'altro posto a ritirare tutti i kit. Poi abbiamo fatto un incontro sia con i professionisti che con i pazienti su quello che poteva essere il loro viaggio ideale e da otto tappe diventa quattro. Abbiamo fatto un ulteriore incontro per vedere quello che poteva essere sostenibile, no? Perché noi abbiamo fatto il nostro viaggio ideale, ma l'azienda può sostenere tutto questo e da otto tappe la sostenibilità già attiva da ormai un anno, vero Anna? Da ormai un anno è cinque tappe. Stiamo lavorando in questi giorni affinché quella famosa quinta tappa venga tolta e potremmo arrivare così ad un percorso nel giro di un anno e mezzo da percorso reale a percorso ideale e sostenibile. Quello che è il vero valore aggiunto dell'utilizzo di questo strumento è quello che ha stimolato, ha stimolato una rete di professionisti che ormai lavorano insieme quotidianamente, ha stimolato il fatto che lavorando non parlo solo del percorso diabete ma tutti e quattro i percorsi di Altequity Audit e anche del Quality Impact Assessment, una cultura organizzativa che quattro anni fa non era così diffusa. Ora noi quando abbiamo iniziato a lavorare sull'equità insomma parecchi sono state le persone che hanno detto ma noi siamo equi cioè noi i servizi li diamo a tutti. Poi lavorando assieme ora sono i professionisti che ci vengono a chiedere di fare un'informativa più adeguata con questo lavoro sull'equità, sull'Altequity Audit lavorando su quelle che sono le azioni migliorative ho finito, le azioni migliorative abbiamo visto che ha stimolato altri vari lavori ha stimolato, vedo lì in fondo la Simona, un lavoro su analisi costi del diabete fra aderenti e non aderenti e fra quelli che utilizzano il microinfusore e quelli che non utilizzano il microinfusore. Ha stimolato un rapporto diverso, vero e ha instaurato un rapporto di fiducia fra l'azienda e le associazioni un fatto che questo vediamo quotidianamente sono le associazioni che chiamano a noi per dire guarda dottoressa questa azione qua secondo me la stiamo già facendo noi insieme ai professionisti la inserirei nel piano aziendale dell'equitale che ne dice è un valore aggiunto, anzi è un gol dal mio punto di vista ha stimolato anche un cruscotto della multicronicità perché io vi ho detto prima che abbiamo un statistico Jessica Zamberletti che ringrazio per tutto il lavoro che sta facendo dedicato ma sarebbe importantissimo che l'Anna Ciardullo o Giuliano e De Girolamo in qualsiasi momento potessero vedere quanti sono i pazienti che aderiscono o non aderiscono al nostro percorso in qualsiasi momento dell'anno ci stiamo arrivando e questo cruscotto dei pazienti non aderenti noi lo metteremo a disposizione dei medici di medicina generale affinché loro sappiano qual è il paziente diabetico che non sta aderendo al percorso e forse insieme potremmo vedere il perché molti dei pazienti non aderenti erano pazienti polipatologici che sono allettati o pazienti che pur avendo residenza a Modena domicilio a Modena lavorano all'estero perciò ci sono nuove forme di gestione del paziente e abbiamo infine raggiunto un risultato molto importante facendo questo protocollo fra il provveditorato agli studi e l'azienda US per la gestione dei bambini che vengono inseriti a scuola, in età scolastica, alle scuole elementari perciò questo secondo me, questa diapo forse è quella che dà più valore al lavoro che abbiamo fatto questi non ve li elenco più perché sono le azioni che abbiamo fatto in relazione agli obiettivi che ce l'avamo dati e volevo soltanto dirvi che in azienda US al momento abbiamo quattro health equity audit attivi uno sullo screening del tumore del colon retto uno sullo screening del tumore della mammella e l'altro sul percorso nascita basta, non è finita qui perché naturalmente il percorso dell'health equity audit è un ciclo non finisce mai perciò nel monitoraggio, ora stiamo monitorando se i pazienti diabetici che avevamo avuti i 113 sono stati inseriti o no e quanti ne sono arrivati anche di nuovi grazie grazie